Due quindicenni sono stati condannati dal Tribunale per i minorenni di Bari a sei mesi di reclusione con pena sospesa per lesioni personali aggravate, per aver picchiato davanti alla scuola con calce e pugni un coetaneo quindicenne che si era rifiutato di dare loro una sigaretta. E' uno dei due casi di adolescenti violenti di cui si è occupato il Tribunale che dovrà decidere se rinviare a giudizio altri tre quindicenni baresi, accusati di aver aggredito un ragazzo di venti, intervenuto in difesa di un anziano che essi stessi, insieme con altri quattro non identificati, stavano insultando. Per loro il PM ha chiesto che venga celebrato il processo. La prima vicenda, giunta oggi a sentenza, risale al 30 settembre 2015. I due imputati, entrambi incensurati e di buona famiglia, avrebbero reagito al rifiuto di una sigaretta colpendo uno studente coetaneo con calce e pugni e causandogli escoriazioni al volto e contusioni al naso, giudicate guaribili in sette giorni. Per loro la procura aveva chiesto il perdono giudiziale. Il secondo episodio risale al 26 giugno 2016. Il gruppetto di ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, aveva cerchiato un anziano signore e lo stava insultando, quando un ventenne è intervenuto in sua difesa, finendo per attirare su di sé la violenza del gruppo e finendo a terra colpito da calce e pugni. Dei sette ragazzi che facevano parte del gruppo sono stati identificati in tre, tutti incensurati, che ora rischiano un processo per lesioni gravi.